Luana, un'altra doppietta in trasferta per te dopo quella contro la Lazio, due gol fondamentali per portare via tre punti importanti oggi da Ponte Dera? Allora, oggi era una partita che dovevamo assolutamente portare a casa i tre punti, visto comunque che abbiamo lavorato bene tutta settimana e anche comunque la settimana scorsa la partita col Como ci siamo fatte valere e oggi era fondamentale, l'unica cosa a portare avanti era solo la vittoria e neanche un pareggio. Non so se me lo puoi raccontare, in genere non si raccontano queste cose, però io te lo chiedo comunque. Cosa è successo negli spogliatoi all'intervallo? Allora, parto dal presupposto, io ero molto tesa, ero molto nervosa, quindi va bene, il mister mi ha tranquillizzato e va bene, ci sono andate la carica comunque a vicenda, sia chi ha giocato, chi era in panchina, tutti insieme ci sono andate la carica, il mister ha spiegato le cose che non andavano e nel secondo tempo siamo entrate più convinte, anche se, se devo essere sincera, nel primo tempo l'abbiamo avuta a portata di mano, solo che sette o otto occasioni la palla non entrava. Nel secondo tempo comunque anche a livello forse di intensità, di aggressività, si è visto un breccia diverso? Sì, era fondamentale come ho ripetuto prima, oggi dovevamo assolutamente vincere, quindi ce l'abbiamo messa tutta, eravamo sul 3-1, abbiamo beccato il 3-2, non abbiamo mollato fino all'ultimo secondo e ce la siamo portata a casa, meritatamente. E stai cominciando a rimpinguare sostanziosamente il tuo bottino di gol? Speriamo di continuare su questa scia, ovviamente segnare è sempre bello, comunque c'è dietro tutto il lavoro della squadra e speriamo di continuare così.